Buonasera e ben ritrovati, parliamo sinteticamente della morte di Jacob Rothschild, Lord Nathaniel Charles Jacob Rothschild, quarto barone Rothschild, finanziere filantrope capo del famoso impero Rothschild, è morto oggi 26 febbraio 2024 all'età di 87 anni. La fondazione Rothschild ne ha dato l'annuncio poi confermato in una dichiarazione della sua famiglia la quale ha descritto il nonno come una presenza imponente. I Rothschild hanno una fortuna stimata di circa 825 milioni di sterline secondo il Sunday Times Rich List dello scorso anno e hanno donato 66 milioni di sterline a cause ebraiche educative e artistiche. La fondazione Rothschild ha confermato che la prima figlia dei quattro di Lord Rothschild, Anna, gli succederà come presidente dell'organizzazione di beneficenza. Verrà sepolto secondo l'usanza ebraica in una piccola cerimonia familiare e in un secondo momento ci sarà un memoriale per celebrare la sua vita. Sotto in descrizione per approfondire l'argomento vi lascio il link dei due libri scritti dal professor Pietro Ratto. Grazie per l'attenzione e alla prossima!